Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 153. Oggi parliamo di un famosissimo designer italiano. Un designer conosciuto soprattutto per automobili e quindi prima di partire con la storia vera e propria ho pensato di darvi alcuni vocaboli sulla macchina. Eccoci qui partiamo subito con il vocabolario dell'autovettura o macchina o automobile vi do la parola in italiano poi la traduzione in tedesco e la traduzione in inglese. La portiera è di tür, the car door. Il finestrino, il finestrino, das Fenster, the car window. Il cofano, cofano, die motorhaube, the bonnet. Il paraurti, die stoßstange, the bumper. Il baule, baule, der kofferraum, the trunk. I fanali, fanali, die scheinwerfer, the headlights. I tergicristalli, tergicristalli, die scheibenwischer, the windscrip wiper. Il telaio, telaio, das Fahrgestell, the frame. La scocca, scocca, das Fahrgestell, the body. La cintura, di sicurezza, cintura di sicurezza, der Sicherheitsgurt. The seat belt. Il sedile, sedile, der sitz, the seat. Il poggiatesta, poggiatesta, die nackenstütze, the head, rest. Il parabrezza, parabrezza, die windschutzscheibe, the windshield. Lo pneumatico, pneumatico, der reifen, the tires. Lo specchietto, specchietto, der spiegel, mirror. Lo specchietto retrovisore, lo specchietto retrovisore, der rückspiegel, the rear mirror. La targa, targa, das numernschild, the number plate. Il tubo di scappamento, tubo di scappamento. Oppure anche marmitta, marmitta, der auspuff. The tailpipe. La frizione, frizione di kupplung, the clutch. L'acceleratore, acceleratore, das gaspedal, the accelerator. Il freno, di bremse, the brake. Le candele, candele di zündkerzen, the spark plugs. Il serbatoio, serbatoio, the tank, the fuel tank. Le frecce, frecce, the blinker, the indicators. Ora, adesso che sapete, che conoscete le parole più importanti per descrivere la macchina oppure per parlare con il vostro meccanico, parliamo di un grande designer di automobili. Ma non solo, ha disegnato molte altre cose e lo vedremo in questo episodio. Il suo nome è Giorgetto Giugiaro. È nato da una famiglia di pittori. Dopo la scuola, il papà gli dava carta e matita e lo costringeva a fare dei disegni. Sia il papà che il nonno erano decoratori di chiese. E il papà lo costringeva appunto a fare dei disegni. Mentre gli altri bambini giocavano fuori, Giorgetto doveva disegnare. E in questo modo impara ad essere veloce. Perché? Perché disegna due o tre schizzi alla volta, poi li mette da parte e ne consegna al padre solo uno al giorno. Così per alcuni giorni ha dei disegni a disposizione e non deve disegnare e può uscire a giocare con i compagni, con gli amichetti. Quindi impara ad essere veloce nel disegno. Abita in un paese di campagna, in Piemonte, nella provincia di Cuneo, a Garessio. I parenti, come vi dicevo, sono decoratori di chiese. Non sono grandi pittori, ma conoscono le forme, le proporzioni. E Giorgetto impara dal nonno e dal padre. Gli piace in realtà dipingere e segue così le orme dei suoi parenti. Il padre però capisce che la pittura e la decorazione delle chiese non può essere un lavoro del futuro. E quindi porta Giorgetto ad interessarsi al disegno artistico e anche al disegno tecnico. Lavorerà poi per disegnare macchine di lusso, ma rimarrà sempre un pittore. Continuerà a dipingere anche se metterà a servizio il suo talento all'industria. Giugiaro è considerato un artista perché, anche nel disegno tecnico, lui tira fuori carta e matita e disegna le idee che gli vengono in mente. Ha sempre in mano la matita, che diventa così un prolungamento della sua mano e della sua mente. Di se stesso dice di essere un manovale della matita, perché ha sempre disegnato personalmente le sue automobili. Cosa che non succedeva un tempo per altre famose firme come Bertone e Pininfarina, che avevano dei disegnatori che disegnavano per loro. Giugiaro invece disegna lui, lui stesso. E aveva sì l'aiuto del suo socio, Aldo Mantovani, che però era un tecnico, mentre la parte creativa era tutta di Giugiaro. Giorgetto non dimentica mai le sue origini e continua ad essere pittore, anche quando disegna automobili. Per esempio, nella presentazione di prototipi e macchine finite, come la Bandini, Bandini d'ora, una macchina lunga 6 metri, che lui disegna al naturale, con gessetti e pastelli, creando così un dipinto, un vero dipinto del futuro. Nell'epoca dell'industrializzazione si iniziano a produrre automobili a Genova, Torino, Milano. Torino, però, è la città dove l'industria automobilistica si sviluppa maggiormente. Con i produttori di automobili nascono anche i carrozzieri, cioè quelli che rivestono le macchine. Nel primo periodo il cliente comprava la macchina senza carrozzeria e poi andava dal carrozziere e si faceva confezionare come un vestito per la sua macchina. Nel primo periodo il carrozziere è come un sarto che confeziona il vestito della macchina. Il periodo dei carrozzieri sarti finisce quando le macchine non hanno più il telaio, ma la scocca, cioè la carrozzeria diventa parte stessa del telaio della macchina. Quando è ancora alle scuole medie, Giorgetto frequenta un corso serale di disegno tecnico perché il padre gli dice che per disegnare qualsiasi cosa, ad esempio un tavolo, un divano, si deve conoscere la terza dimensione e quindi il disegno tecnico è importante. I suoi professori vedono già il grande talento del designer e, ancora minorenne, Giugiaro lascia la sua città, si trasferisce a Torino ed entra nel centro stile della Fiat e qui comincia la sua carriera. Il carrozziere più famoso ed importante del primo periodo è Bertone, che nasce nel 1912 a Torino. Bertone comincia a rivestire prima le carrozze e poi le automobili. Bertone ha un grandissimo successo e diventa famosissimo negli anni 70, ma non c'è solo lui, un'altra decina di nomi famosi, come Ghia per esempio, che rendono Torino negli anni 50, 60, 70 e 80 la capitale mondiale del design dell'automobile. Negli anni 70 tutto il mondo va al Salone dell'Automobile di Torino per vedere le novità in questo campo. Poco dopo Bertone dà a Giugiaro la responsabilità di tutto il centro stile della sua ditta e, pensate un po', Giorgetto ha solo 21 anni. Bertone gli lascia la libertà di creare e nascono dei modelli che sono innovativi, diversi dai modelli più classici che aveva Pininfarina, altro designer dell'epoca abbiamo visto. Disegna un capolavoro dopo l'altro, macchine iconiche e un modello al quale Giugiaro è particolarmente legato e la Testudo Corvair del 1963, che è stata presentata anche all'esposizione di New York, dove si esponevano ricerche e disegni futuristici, ma statici, e tutti quindi rimangono sorpresi a vedere che questo disegno futurista è diventato realtà, si è trasformato in una macchina che viaggia veramente, una macchina vera e propria. Giugiaro presenta le sue macchine arricchendo i suoi disegni con luci, colori particolari, con ambientazioni da fantascienza, che colpiscono il pubblico. L'Alfa Romeo Giulia GT del 1963 la disegna all'età di 24 anni ed è una vettura perfetta, cosa che ci fa capire che il designer ha un talento innato. Questa macchina è bella ancora oggi e ci sono dei particolari che sono considerati delle innovazioni. Alla fine degli anni 70 la Fiat si accorge di Giugiaro e gli chiede un'autovettura economica. Nel 1980 a Moncalieri, una delle colline di Torino, esce così la Fiat Panda, macchina molto pratica, facile da usare. Lo stile è molto diverso da tutte le altre macchine. La strumentazione è racchiusa in un piccolo rettangolo ed è molto spaziosa come macchina. I finestrini devono essere piatti perché quelli curvi costavano all'epoca troppo e la macchina doveva essere economica. Giugiaro riesce a disegnare un modello molto particolare intorno a questi finestrini piatti. Quindi diventa una macchina anche questa iconica. Alla fine degli anni 70 ormai anche il maggiolino della Volkswagen ha fatto il suo tempo. Solo pochi la comprano. È una macchina ormai vecchia. Ma la Volkswagen non ha idee per creare un nuovo modello e così chiama proprio lui Giugiaro a Wolfsburg. E qui il designer crea la Golf. Macchina moderna ma che rimane comunque una macchina per tutti. È molto popolare. Giugiaro disegna poi anche la DeLorean DMC12 del 1981 che viene scelta per la famosa serie di film degli anni 80 Ritorno al Futuro. Il regista Zemeckis la sceglie per la sua forma avveneristica e per l'apertura delle porte dal basso verso l'alto. La macchina che può essere considerata un simbolo della vita del designer che guarda sempre al futuro. Negli anni 90 nasce la Punto. Macchina che richiama vetture del passato come la Fiat 127 e la Fiat 1 ma con un design più moderno. È la macchina che salverà tra l'altro la Fiat che comincia così a vendere tantissimo. La Fiat Punto sarà poi prodotta in varie versioni e per tanti anni a seguire. Facciamo anche noi adesso un salto nel tempo ed arriviamo nel 2018. Giugiaro ha più di 80 anni e si fa un regalo. Disegna un prototipo di autovettura con tutte le cose che gli piacciono e che porta il nome di Sibilla dal cognome della madre. Quindi è un omaggio alla mamma e Sibilla come nella mitologia greca nome delle sacerdotesse che prevedevano il futuro. Quindi vedete quanti simboli. Giugiaro non disegna solo automobili però ma treni, sedie da dentista, bottiglie d'acqua. Tutto all'insegna della praticità. Addirittura Giugiaro ha disegnato un formato di pasta pensate le marille con una forma speciale per raccogliere meglio il sugo ed è ispirata ad una guarnizione di una macchina. La mamma di Giugiaro faceva la sarta e quando era piccolo Giorgetto la vedeva chinarsi sulla macchina da cucire per far passare la stoffa nella macchina. Anni più tardi il designer creerà la macchina da cucire necchi fatta per le sarte che non dovevano più chinarsi per vedere il lavoro. Nella sua città un vecchio ponte faceva purtroppo da diga quando pioveva molto e dopo una grande alluvione si è deciso così di costruire un ponte più moderno un nuovo ponte che è stato disegnato proprio da lui, da Giugiaro. macchine fotografiche, orologi vengono disegnati sempre da un punto di vista tecnico per risolvere i problemi per renderli facili da usare. Poi il designer ha un occhio attento anche alla bellezza sì, quindi con la praticità più la bellezza nascono degli oggetti veramente unici. Giugiaro dice di creare oggetti cercando di renderli semplici, logici dice ancora abbiamo una faccia con due occhi un naso e una bocca ma quanti diversi tipi di bellezza e di persone abbiamo? Per essere belli o anche per poter respirare non abbiamo bisogno di due nasi e per vedere e per essere espressivi non abbiamo bisogno di quattro occhi quindi la semplicità è la cosa migliore. Per questioni di marketing è logico che si deve inventare sempre qualcosa di nuovo ma lui segue sempre la logica delle proporzioni. Nel 2023 Giorgetto Giugiaro è stato ospite di una mostra a lui dedicata al The Mac Museum Art and Cars di Zingen in Germania e per celebrare 40 anni di attività si decide di scrivere una musica e c'è l'incontro con Ennio Morricone. Giugiaro porta dei filmati dei libri i due parlano e da questa conversazione nasce il pezzo di Ennio Morricone dedicato all'automobile. Giorgetto ha sempre amato l'avventura e non ha mai avuto paura di nulla va in montagna a camminare va in moto da enduro o strial come si dice in italiano scia ama la montagna che è veramente il suo ambiente. Oggi Giorgetto Giugiaro ha 86 anni e ha deciso di tornare alla pittura sta decorando una vecchia chiesa del 1200 del suo paese tornando così alle sue origini. Dal 1960 ad oggi il designer ha firmato design di più di 300 automobili. Nel 1999 viene nominato car designer del secolo da una giuria di 120 giornalisti ed esperti internazionali. Quindi questo era cari ascoltatori l'episodio su Giorgetto Giugiaro. Vi è piaciuto? Spero di sì. Come sempre vi ringrazio naturalmente per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora per l'ascolto e arrivederci. Ciao ciao da Luisa. a Grazie a tutti.